Musica Si apre sabato a Reggio Calabria la campagna elettorale delle centrodestra per le elezioni regionali del 26 gennaio. L'appuntamento è alle ore 12 a Palazzo Campanella nella Sala Calipari con la candidata di Forza Italia alla presidenza della regione, Iole Santelli. Nell'occasione è previsto l'intervento della presidente del gruppo parlamentare azzurro alla Camera, Maria Stella Gelmini, a simboleggiare che si tratta di una grande sfida tutta il femminile. Mai infatti una donna ha governato la Calabria nella storia e Iole Santelli non è soltanto l'unica candidata donna, ma è anche la più giovane tra gli aspiranti governatori. Sempre sabato 4 anche Pippo Calipo, candidato del centrosinistra, cercherà di prendere la scena. Ci vediamo sabato 4 gennaio alla mezzia terme, domande senza filtri, botte e risposte sul futuro della Calabria. Non ho nulla da nascondere, vi aspetto, insieme possiamo fare la rivoluzione, ha scritto il candidato alla presidenza della regione, Calipo, sulla sua pagina Facebook, presentando l'incontro. 100 domande per Pippo, che si terrà appunto sabato 4 alle ore 10.30 al Tiotel a Ferroletto Antico. Intanto il Movimento 5 Stelle e Calabria Civica hanno presentato a Catanzaro il programma elettorale della coalizione a sostegno del candidato alla presidenza della regione, il docente universitario Francesco Aiello. All'iniziativa hanno partecipato, oltre al candidato governatore, il sottosegretario ai beni culturali, Anna Lauro Rico, il coordinatore della campagna elettorale delle regionali, il deputato del Movimento 5 Stelle Paolo Parentela, l'europarlamentare Laura Ferrara ed altri rappresentanti istituzionali del Movimento. A chiudere la presentazione declinando gli aspetti salienti del programma elettorale delle due liste a sostegno di Aiello, è stato lo stesso candidato governatore. Legalità, trasparenza, lotta alla criminalità organizzata, pulizia nella pubblica amministrazione a partire dalla cittadella regionale. Sono i punti principali del programma elettorale del Movimento 5 Stelle presentato a Catanzaro alla presenza di tutti i candidati consiglieri regionali nelle liste del Movimento 5 Stelle e di Calabria Civica, con in testa il candidato governatore Francesco Aiello. Sono temi assolutamente importanti perché rappresentano la condizione dello sviluppo della nostra regione calabria e quindi ricevono la massima priorità della forza governativa che si propone di governare questa regione. Quindi massima priorità sui temi caldi che lei ha citato, con un occhio però parallelamente a quest'azione a capire quali sono i fattori su cui puntare per dare una prospettiva di crescita alla regione. In questa prospettiva di crescita l'azione di governo dovrà essere finalizzata a dare segnali di capacità analitica nell'individuare due o tre priorità su cui puntare nei prossimi dieci anni per creare occupazione e reddito. Mi riferisco per esempio alla possibilità di creare un sistema di opportunità turistiche che sia realmente tale e che sia in grado di intercettare la domanda di turismo extraregionale e internazionale. L'altro settore su cui punteremo l'attenzione nei prossimi anni è sicuramente di rileggere il modello di sviluppo del settore agricolo che pesa moltissimo, tentando di facilitare la transizione del settore verso un modello di ecosostenibilità e quindi facilitare la transizione verso la green economy nel settore che in questo momento traina moltissimo molti comparti. Noi pensiamo che solo una forza politica che non ha avuto responsabilità in questi anni del disastro causato dal centro-sinistra e dal centro-destra possa veramente avere le mani libere di agire e di cambiare finalmente questa rotta. Sono tutti contenuti e battaglie del Movimento 5 Stelle che ha svolto in Calabria ma ci tengo a precisare che il Movimento fino ad oggi non ha mai avuto rappresentanti all'interno del Consiglio regionale e quindi proseguiremo questa battaglia del Movimento 5 Stelle con la speranza di poter governare questa regione e cambiare le sorti dei calabresi. Credo al progetto del centro-destra che vede Iole Santelli candidata alla presidenza della regione Calabria una donna tenace e passionale che assicurerà una prospettiva ai figli della Calabria la priorità da inserire nel programma e nell'agenda politica di questa regione è l'occupazione lavorativa e le prospettive di sviluppo per le nuove generazioni e quanto ha affermato Frank Mario Santacroce, avvocato il quale ha presentato a Catanzaro la sua candidatura per le regionali del 26 gennaio sempre più giovani scappano dalla nostra terra, ha detto Santacroce ai microfoni di RTC noi dobbiamo garantire loro la possibilità di rimanere questo passa anche da una migliore sinergia tra le nostre risorse e mare e montagne in primis il nostro programma ha concluso Santacroce il frutto di un impegno e dell'eradicamento sul territorio di idee e proposte programmatiche per la Calabria Avvocato Santacroce, in campo perché? in campo perché c'è bisogno di rinnovamento c'è bisogno di idee nuove c'è bisogno di creare un nuovo percorso per la politica per ridare fiducia alle tante persone che si sono allontanate dalla politica e da questo sistema priorità per la nostra terra, priorità per la nostra Calabria? priorità, noi abbiamo un grande palcoscenico che sono i mari e i monti poterli collegare con reti, infrastrutture e opportunità di lavoro forse è la ricetta migliore per la Calabria tutti gli schieramenti hanno subito divisioni negli ultimi mesi insomma si è arrivati tardivamente anche alla scelta dei candidati a governatore il centro-destra questa unità sta cercando di recuperarla? sì, credo che la figura di Iole Santelli rappresenti il miglior biglietto da visita per dimostrare che il centro-destra è unito e forse Italia avrà un ruolo centrale in questa coalizione noi abbiamo un collegio Calabria Centro che sono 154 comuni molto poco omogeni per caratteristiche e realtà però ha una serie di risorse naturali che possono far valorizzare commercio, agricoltura e turismo in modo organico Mare-Monti quindi è una sinergia come diceva prima insomma assolutamente imprescindibile Mare-Monti è la mia ricetta vincente per la Calabria più che di futuro io parlerei già di presente perché se parliamo sempre di futuro dobbiamo avere il coraggio di iniziare subito a mettere mano a questa macchina che ormai è contorta e molto burocraticizzata bisogna risistemare i dipartimenti, bisogna iniziare a parlare con la gente ed esistono tutti gli strumenti, iniziare dai fondi comunitari per programmare e creare una Calabria nuova La Corte dei Conti ha accertato 7 criticità nel bilancio di previsione 2019-2021 della Regione Calabria il dato emerge da una deliberazione adottata nei giorni scorsi dalla sezione di controllo della magistratura contabile calabrese all'esito di un'istruttoria che ha seguito vari passaggi tra cui la richiesta di chiarimenti alla Regione Calabria e la trasmissione da parte della Regione delle proprie contradduzioni le criticità riscontrate riguardano essenzialmente il settore della sanità C'è tropea fra le 44 città italiane che si sono candidate al titolo di Capitale Italiana della Cultura 2021 il titolo di Capitale Italiana della Cultura istituito dal Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo Dario Franceschini con la legge Art Bonus nel 2014 è conferito, spiega una nota della Mibact, per la durata di un anno e la città vincitrice riceve un milione di euro per la realizzazione del programma presentato le città che hanno manifestato il proprio interesse devono presentare entro il 2 marzo i propri dossier di candidatura che verranno esaminati da una giuria di 7 esperti di chiara fama per arrivare entro il 30 aprile alla selezione di un massimo di 10 progetti finalisti da invitare in audizione la città capitale italiana della Cultura 2021, spiega la nota della Mibact verrà scelta esclusivamente sulla base di questi colloqui entro il 10 giugno bisogna continuare ad avere fiducia e rispetto verso le istituzioni al di là di chi momentaneamente la rappresenta auspichiamo subito la nomina del nuovo prefetto di Cosenza da parte del governo lo scrive il segretario generale della CGL Calabria Angelo Sposato in un post sulla sua pagina Facebook nella nostra regione, prosegue Sposato, saranno tante le vertenze che richiederanno sinergie sindacali e istituzionali occorre in questa campagna elettorale regionale il massimo sforzo per garantire trasparenza e legalità soprattutto nei comuni già sciolti per infiltrazioni mafiose mi dimetto dall'incarico di sindaco prendo questa sofferta decisione nell'attesa che la mia posizione venga chiarita e nella consapevolezza di essere totalmente estraneo alle accuse che mi vengono mosse lo scrive Gianluca Callipo primo cittadino di Pizzo attualmente sottoposta alla misura cautelare di detenzione al segretario comunale Adriana Ventura al vice sindaco Maria Pascale e al presidente del consiglio comunale Giacinto Maglia la missiva già legata agli atti dell'interrogatorio di garanzia all'indomani dell'arresto ordinato nell'ambito dell'operazione rinascita Scott è stata protocollata in comune il 31 dicembre scorso è dunque da questa data che comincia a decorrere il termine di 20 giorni dopo il quale il consiglio viene dichiarato decaduto una decisione quella di dimettersi che davanti al giudice il primo cittadino ha motivato come un estremo atto d'amore nei confronti della sua città una pratica a tutela del procuratore capo di Catanzaro Nicola Gratteri per le accuse che gli ha rivolto la parlamentare del PD Enza Bruno Bossio in relazione alla maxi operazione contro l'andrangheta che ha portato a 300 arresti è stata chiesta alla CSM dal consigliere Fulvio Gigliotti del Movimento 5 Stelle dal commento aveva preso alle distanze il PD la vicenda dell'istituto di analisi cliniche dei Blasi di Reggio Calabria è autenticamente caffecchiana è rappresenta l'emblema della condizione in cui versa il sistema burocratico in questo territorio soprattutto in un settore come quello della sanità lo afferma il presidente di Confindustria Reggio Calabria Domenico Vecchio con riferimento al ritardo nell'autorizzazione alla nuova strumentazione per la risonanza magnetica acquistata dalla nota struttura sanitaria regina quanto denunciato dall'amico imprenditore Edoardo Lamberti Castronuovo al quale esprimo la vicinanza e la solidarietà di tutta Confindustria è autenticamente sconvolgente Reggio Calabria, aggiunge Domenico Vecchio può vantare oggi una strumentazione unica in Italia e probabilmente anche in Europa per effettuare l'esame della risonanza con una capacità di fornire diagnosi molto più accurate e puntuali ma questa rivoluzionaria e costosa macchina non può operare perché la competente commissione dell'azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria non rilascia il relativo parere in quanto priva di un ingegnere biomedico che dovrebbe farne parte siamo arrivati al punto, dice ancora il presidente di Confindustria Reggio Calabria che un imprenditore che investi in maniera generosa per il proprio territorio non abbia neanche la possibilità di avviare un seguimento della propria attività d'impresa per una surreale questione amministrativa Dall'Esera al Pollino si sono dati appuntamento a Castrovillari sono alcuni rappresentanti di dipendenti di una delle ditte appalti di pulizie Consip che operano in Calabria nelle scuole pulizie e tinteggiatura pareti sono in 16.000 ex LSU e appalti storici e lavorano nelle scuole da lontano 1994 stabilizzati dal 1 luglio 2001 da grandi consorzi a tempo indeterminato dal 1 aprile 2014 sono stati catapultati in un nuovo progetto Scuole Belle dall'allora presidente del Consiglio Matteo Renzi costretti ad occuparsi non solo della pulizia dei plessi scolastici ma anche del decoro di tutte le scuole d'Italia Oggi ci ritroviamo a dover subire una internalizzazione con lo Stato quindi come personale ATA voluta a tutti i costi dall'onorevole Luigi Gallo dei Cinque Stelle e tutto ciò non farebbe una piega se non fosse che il decreto del 6.12.2019 non fosse stato fatto in maniera tale da penalizzare la maggior parte dei lavoratori in quanto è stato stabilito che pochissimi sono i posti a tempo pieno e tantissimi saremo assunti al 50% con una paga circa di 500-600 euro al mese tanti non possono partecipare al concorso per mancanza di titoli e resteranno senza posti di lavoro e senza neanche poter andare in pensione con la quota 100 poiché non hanno i contributi e non hanno l'età cioè è una cosa assurda che noi dopo tutti questi anni ci ritroviamo ad essere precari secondo questo decreto con 283 posti accantonati disponibili solo 18 posti sarebbero a tempo pieno noi siamo 548 parliamo della provincia di Cosenza quindi tutti gli altri dovremmo fare il 50% di lavoro non ci possiamo trovare dopo tantissimi anni in una precarietà tale che ci permette addirittura di morire di fame e noi chiediamo a questo governo, al presidente Conte come possono pensare di aver trovato la giusta soluzione per noi se secondo loro si può vivere con uno stipendio di 500-600 euro mensili quando addirittura hanno dato come reddito di cittadinanza a qualcuno anche 1200 euro per aver guardato il paio alla prossima Autore dei sorrisi